Finalmente Belen rompe il silenzio sui social sulla sua salute. Restate a guardare il video e scoprire cosa ha detto. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. La modella argentina, Belen Rodriguez, ha destato molte preoccupazioni tra i suoi fan negli ultimi giorni, soprattutto a causa della sua recente assenza da due ospitate televisive. Ci si chiedeva quale potesse essere la ragione dietro questa sua inattività, e, certamente, non sembra attraversare un periodo tranquillo. La sua recente rottura con Stefano De Martino deve averla colpita profondamente. Dopo giorni di silenzio, Belen Rodriguez è finalmente riapparsa sui social media, lanciando una frecciatina che ha attirato l'attenzione. La sua salute è stata al centro delle cronache rosa e molti si sono preoccupati per il suo stato. Durante una puntata di Domenica in, Fabrizio Corona aveva dichiarato, Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Anche Alessandro Cattelan aveva riferito di un malessere della showgirl dopo che lei aveva disdetto un suo impegno. La notizia che la madre, Veronica, stesse al fianco di Belen per aiutarla ad affrontare il difficile momento dopo la separazione da Stefano De Martino e la perdita di peso evidente hanno ulteriormente sollevato preoccupazioni. Attualmente, sembrerebbe che i figli, Santiago e Luna Marie, stiano trascorrendo del tempo con i rispettivi padri. Le osservazioni dei fan non sono passate inosservate, con molti che hanno notato la perdita di peso di Belen e si sono espressi sulla sua apparente sofferenza. Nel frattempo, sono emerse foto che la ritraggono in compagnia di Elio Lorenzoni, dando l'idea di una possibile relazione amorosa. La decisione di vivere la sua storia con Elio in modo aperto, nonostante non ci fosse stato un annuncio ufficiale di separazione da Stefano, ha suscitato critiche. Belen sembra aver voluto rispondere a tutte queste voci con una citazione su Instagram, riprendendo un'affermazione di Elio Germano «Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore». In altre parole, sembra che stia invitando tutti a rispettare la sua privacy e a non speculare sulle sue scelte personali. Belen ha sempre dimostrato di non voler essere vittima del gossip sulla sua vita privata, nonostante gran parte del suo successo sia basato su questo, essendo una figura pubblica. Ha sottolineato il concetto tra le righe, invitando ognuno a concentrarsi sui propri affari. Cosa pensate di Belen? Stanno esagerando sulla sua vita privata? Lasciateci un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Grazie e arrivederci!